Eccoci, dove andiamo adesso? Vede la dentiera, vero? No, vede, ma pia le misure. Non hai capito che non ha fatto niente questo. Ho capito, ma secondo me ti pia le misure anche del cincillà. Te li pierà le misure del cincillà? No, le misure del... Vuole Marfanovo? Vuole Marfanovo anche quello? Le misure del cincillà... Ma la pia una bella figa. Che è? I fatti vostri, non ci sono stati voglia. Quelli che dovresti fatti te. Alla dai. Eh, ti ricordi che guardavi il culo della Falchi? Eh? Guardavi il culo della Falchi? E frega, della Falchi... Più che altro, come mai c'è tutti sti popoli? Guarda. Eh, perché io e ora li butto via. Adesso andiamo subito a prendere un paio di jeans. No, ma tutto è scemo, che ne voglio io. Che? C'hanno cinque o tre paio di jeans. Ti devo controllare, Nati. Fammi te controllare, fammi te controllare. Mannaggia. Beh, fammi te controllare. Va via. Ne stai meglio steso? Mentre la testa hai giocato, riposte. Eh sì, che c'hai detto. Ma non ti stai bene così, steso, eh? Oh, riposte. Rilassiti un po' come in pelù. Basta che stai fermo. Questa o no è la panchina che te meriti? Vedi? Guarda un po'. Guarda che spettacolo. Poi dovresti avere una panchina così, eh? O no? Oh. Oh no? Oh. Beh, ma che hai fatto? Ho fatto un... Un vento. Che hai fatto? È scorreggiato o no? Oh. Guarda, guarda qui, passano le macchine, vedi? Ma è scorreggiato senza dentiera, ma trenico? Ma io non ho fatto niente. No, guarda come ride. Eh no. No, 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 no. No. Eh no. Eh no. Beh, eh, 10,000.